Clamoroso colpo di scena riguardante Belen Rodriguez e il fidanzato Elio Lorenzoni. E i fan sono decisamente sorpresi, visto che in pochi si sarebbero aspettati un gesto del genere. Nonostante la loro relazione sentimentale sia iniziata poco tempo fa, sono già arrivati ad una importante svolta. E non lo hanno voluto tenere nascosto per nessuna ragione, infatti grazie ad alcune foto è stato possibile scoprire tutta la verità. Si era vociferato, stando ad Agospia, che lei si sarebbe legata all'imprenditore solo per vendicarsi di Stefano De Martino, ma gli ultimi accadimenti smentiscono queste voci. Il loro legame sarebbe più forte di quanto si immaginava, tanto che i due innamorati in queste ultime ore hanno preso una decisione significativa riguardante il loro futuro. Sono apparse infatti delle immagini sul profilo Instagram della Showgirl che mostrano Belen ed Elio entrambi con una fede al dito. Addirittura su X, ex Twitter, c'è chi ha immaginato qualcosa di clamoroso. Oh, ma che è? Si sono sposati in segreto? Che succede? Ovviamente non si tratterebbe di nozze, ma di una grandissima e reciproca dichiarazione d'amore. Tenendo conto della velocità nella progressione di questo rapporto, non è da escludere la possibilità che Belen ed Elio stiano effettivamente già pensando al matrimonio. Ciao! 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 Ciao!